120 milioni Ho vinto Lei chi hai scusi? Sono sua moglie Ecco Come sto? È la morte sua Sto pensando alla ricevuta Ma dove l'hai messa? Ma tu te l'avrò messa? No, perché noi qui rischiamo di perdere tutti i nostri soldi? Non ha vinto Gaetano, va bene? Ma è vero che non ha giocato? Io devo scoprire di chi ha giocato la mia sestina vincente Per il ciclo Commedia all'italiana Con Vincenzo Salenne Asia Argento Alessandro Gasman Baciato dalla fortuna Domenica 2125 Rete 4